L'associazione Crema Amicizia nasce nel 1988. Gli scopi sono quelli appunto di far sentire meno sorde persone durante un certo tipo. A tal fine abbiamo un'attività di cucina a mezzogiorno che fa sì che le persone non si trovano più sorde nell'ambito familiare. Sono qui al club a far volontariato da circa un annetto. Qui all'interno del club ci sono varie attività. Una fra queste è l'attività di cucina che si svolge praticamente il mercoledì e il venerdì. A volte partecipano anche familiari di questi utenti e questo è molto importante perché è utile ai fini della socializzazione di queste persone. Poi crea un momento di calore umano che è importante per persone che il più delle volte vivono sole in appartamenti che sono del comune e all'interno dei quali sono pure seguiti dal servizio di salute mentale. Io sono un volontario del club Amicizia. Sono un ex infermiere del servizio di salute mentale. Mi occupo della gestione economica. Raccolgo le quote di autofinanziamento che i soci di questa associazione elargiscono in occasione della mensa che è un servizio che viene dato quotidianamente dall'associazione ai soci frequentatori. Il club Amicizia, essendo un'associazione di volontariato, nell'anno 2006 ha messo in essere quattro progetti che sono stati la ceramica, un corso di nuoto e un corso di pittura. E poi dal 2004 gli operatori collaborano anche per un laboratorio teatrale. E poi facciamo così. Io sono una volontaria, faccio aiutante dell'insegnante di ceramica. Qui abbiamo creato dei progetti. Ho fatto un corso, poi mi sono invaguita di questo posto, ma anche di questa gente. Io ho conosciuto il centro di Porto Maggiore, il centro di urno, circa tre anni fa. Il mio problema era che non socializzavo con altre persone mi ero chiusa. E a dicembre io sono entrata in questo centro, mi sono trovata subito benissimo. Ci troviamo due o tre volte a settimana a mangiare insieme, a parlare del più e del meno. I problemi li affronto meglio. Persone che partecipavano a questi laboratori abbiamo visto con il tempo che avevano dei grossi miglioramenti. essendo il tempo libero quasi sempre un punto critico della vita di tutti.